Porto della Francia Senti, si fanno una promozione, l'assenza di fiori No, scena, tieni questo Ciao, basta lì La carburatura, fai lì La carburatura Dopo il mangiare, comincia ad aperci qualche negozio, non tutti Sì, adesso è tutto chiuso Sì, l'obbligatorio per oprire, no, aperto Vedo, non, non mi chiamò, non, non Vedo, cosa vuoi, voglio? Voi, ho vedo Tornata Porto? D bịa, vedi, devi fare Sì Ci pensi Di Sì 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 Grazie a tutti.